Il C9, il Consiglio dei Nove Saggi, voluto da Papa Francesco per aiutarlo nel governo della Chiesa e nella riforma della Curia, diventa C6. Ben tre cardinali, infatti, sono stati congedati senza, per il momento, essere sostituiti. A conclusione della sessione di dicembre del Consiglio, istituito dal Pontefice nel 2013, il direttore della Sala Stampa Vaticana, Greg Burke, ha confermato che il porporato australiano, George Pell, il cileno Francisco Xavier Errazuriz e il congolese Laurent Monswengo Pasigna, a fine ottobre hanno ricevuto una lettera con cui il Papa li ringraziava per il loro lavoro svolto negli ultimi cinque anni e di fatto li sollevava dall'impegno. Oltre all'età avanzata dei tre cardinali, tutti ben sopra i 75 anni, limite canonico imposto per incarichi ecclesiastici, hanno giocato anche alcune situazioni che li vedono coinvolti. Il prefetto della Segreteria per l'Economia è, dal 2017, coinvolto in un lungo processo che lo vede imputato per reati sessuali ai danni di un minore. Nelle ultime ore in Australia si è diffusa la notizia di una presunta condanna ai danni di Pell che la Corte di Melbourne avrebbe secretato per non influenzare un altro processo in cui il cardinale è accusato di aver coperto casi di abusi nella sua diocesi. La Santa Sede ha confermato che esiste un provvedimento in atto che impone silenzio e che nel rispetto dell'ordinanza e delle autorità giudiziarie australiane mantiene il più totale riservo. Diverso il caso di Erazuris. L'ultraottantenne porporato cileno aveva annunciato lui stesso le dimissioni dal Consiglio dei Cardinali su cui hanno pesato le polemiche che hanno accompagnato il viaggio del Pontefice in Cile, gli scandali sugli insabbiamenti di casi di pedofilia e la crisi della gerarchia cilena. Quanto al cardinale Moswengo Passigna, la difficile situazione nella Repubblica Democratica del Congo e il ruolo svolto dalla Chiesa nel processo di pacificazione potrebbero aver fatto decidere per un suo minore impegno nella vita.